bella raga bentornati in questo nuovo video bomba ragazzi e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi porto il metodo assurdo ragazzi per riavere il cannone esplosivo sul laser un glitch da cancri raga ma non potevo non portarlo per gli amanti del laser e per infangare i vecchi ricordi quindi ragazzi se volete fare questo glitch semplicissimo requisiti dovete possedere un hangar dovete avere all'interno il vostro laser a questo punto dovete entrare all'interno dell'hangar ragazzi e uscire fuori con il vostro laser a questo punto una volta che siamo fuori piccola manovrina tattica raga per farvi vedere che effettivamente ci sono i cannoni quelli scrausi guardate è una mitraiatrice vedete non è niente di speciale adesso per fare venire quelli esplosivi raga cosa dobbiamo fare semplicemente menù di pausa raga andiamo su opzioni una volta che siamo su opzioni mettiamo sala d'attesa chiusa che penso che ormai ce l'avete tutti perché funziona sta cosa per tanti glitch una volta fatto ciò andiamo sulla terz'ultima voce ragazzi dell'elenco e andiamo a mettere precisamente quello degli utenti solo create dagli utenti ragazzi è fondamentale se no il glitch non funziona adesso semplicemente chiudiamo il menu di pausa andate su attività tramite il telefono ragazzi come vedete e una volta che siamo qua andiamo su paracadute e andiamo ad avviare la missione del paracadutismo una volta che avvieremo questa attività ragazzi di solito quando arriviamo al 15 secondi si aprirà la lobby e verrà 1 di 2 invece ci darà questa allerta e noi dobbiamo cliccare B o cerchio perché gioca da PS raga per diventare host mi raccomando se non fate questo step non funzionerà il glitch una volta cliccato B o cerchio cosa facciamo apriamo il nostro menu PS o Xbox e andiamo a partecipare su Anawak ragazzi o comunque sia su qualcuna diversa mira da voi accettiamo il primo messaggio rifiutiamo il secondo messaggio e raga avremo il cannone esplosivo sui laser ditemi cosa ne pensate di sto glitch perché è assurdo è illegale raga quindi a questo punto lasciate un like lasciate un commento supportate Savix supportate il canale condividete i miei video ragazzi altrove iscrivetevi attivate la campanellina per essere aggiornati sui miglior glitch di GTA 5 online bella raga alla prossima sba da bam iscrivetevi al canale